6 luglio 2020, muore a Roma Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori di colonne sonore. Nato a Roma nel 1928, Morricone si è confrontato con tutti i campi della composizione musicale. Negli anni 50 è tra gli esponenti dell'avanguardia romana e nel decennio successivo partecipa al gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza. Contemporaneamente si dedica all'attività di direttore d'orchestra e arrangiatore di musica leggera, confezionando brani che creano il sound italiano degli anni 60, come Sapore di Sale, Il Mondo e Se Telefonando. Agli inizi di quel decennio si cimenta anche con le colonne sonore ed è questo il campo dove raggiunge il successo planetario, grazie alle musiche create per i film di Sergio Leone che danno vita al fenomeno degli spaghetti western. Nei decenni successivi Morricone rafforza il suo impegno nel cinema, partecipando a film di Petri, Pasolini, Bertolucci e Tornatore e collaborando con registi internazionali come Joffet, De Palma, Polanski e Tarantino, con cui vince il premio Oscar nel 2016 per la colonna sonora di The Hateful Eight, dopo aver vinto l'Oscar alla carriera nel 2007. Sempre nel 2016 Hollywood gli dedica una meritata stella nella celebre Walk of Fame. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.